Ciao a tutti, sono Tornada, sono Nelly Rem Oggi volevo parlarvi un attimo di come trovare gli appartamenti, le share house e tutto quello che vi serve per vivere qua in Giappone Allora, io per venire qua inizialmente mi sono rivolta a Gogo Nyon che mi ha aiutato con, come dicevo in alcuni video, nel trovare la scuola Perché io vado alla Shibuya Gagokaki ma ci sono veramente veramente tanti tipi diversi di scuola Io adesso cambierò e andrò alla Kamonkai, perché per esempio la Kamonkai offre un corso che in un anno ti permette di prepararti all'università Per entrare all'università qua in Giappone, oppure hanno il corso che ti prepara al GLPT, oppure hanno il corso per il business Dove però devi già sapere la lingua comunque per farlo Che differenza c'è tra le varie scuole? Io conosco gente che è stata alla CAI e che dopo due settimane si è trasferito perché il corso era troppo difficile La Shibuya Gagokaki dove vado io è molto molto semplice, ovvero è molto molto lenta, in una settimana fate una lezione Però è molto molto costosa perché uno è a Shibuya e è anche italo-giapponese Quindi all'interno ci sono tantissimi tantissimi italiani Se voi per esempio andate alla Kamonkai, là già sono tutti cinesi, tutti vietnamiti Il problema della Kamonkai o la CAI qual è? Che la Kamonkai è veramente veramente difficile Se voi andate lì non avete magari tutto questo tempo per un lavoro part-time Perché se lo fate vi trovate indietro con gli studi oppure studiate veramente 24 ore al giorno Io infatti farò così Però che c'ha di bello che è una biblioteca aperta 24 ore Che comunque c'ha i dormitori se volete risparmiare Ogni scuola ha le sue caratteristiche diverse Ecco, io le ho trovate tutte nel Deplianti Gugoniono, nel loro sito Che mi hanno fatto vedere più o meno tutte le caratteristiche Ma alla fine quando voi ci andate capite veramente com'è la scuola e come vi trovate Comunque si può cambiare la scuola Anche perché il visto studentesco dura due anni Quindi più di due anni voi in una scuola non potete stare Almeno che non lo cambiate in un visto universitario E quello vi permette di stare tutto il tempo che frequentate un'università Quindi comunque vi darebbe più opportunità Oppure vi trovate un lavoro qua Che vi fanno il contratto lavorativo O vi sposate E quindi, che per me è fuori discussione Quindi si studia Altra cosa A parte che ogni scuola è diversa Ma anche il modo di insegnare è diverso Per esempio noi non abbiamo neanche i tavoli Ed è una cosa che a me scoccia tantissimo Perché dobbiamo stare su delle sedie Per tre ore e mezzo A sentire la lezione E a me questa cosa della mia scuola non piace Per esempio Mentre invece all'altra scuola Ho visto che hanno i tavoli Che hanno dei lavori di computer Che hanno uno spazio grande Cioè a me piace molto di più adesso Però A seconda delle tue esigenze Di quanto vuoi studiare Scegli la scuola Perché se ovviamente non hai mai studiato giapponese prima Io non consiglio la Kamonkai Perché la parto non ha manetta C'è una scuola fatta secondo me Per studenti asiatici Proprio per gli chinesi per esempio Perché già sanno i kanji Perché già comunque sanno alcune cose È troppo difficile puntare una scuola Con un livello di studio a ritmo elevato Se non avete mai fatto giapponese prima È veramente un suicidio secondo me Che già per me che l'ho fatto prima È stato difficile comunque riniziarlo qua Perché c'è un metodo di studio diverso Comunque Per quanto riguarda gli appartamenti Ecco Io sono venuta con un'agenzia Che mi ha consigliato Google Neon Però Ed è la Fontana Prendono tanti 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 soldi Gli appartamenti sono veramente Veramente orribili Molti si sono trovati male con Fontana Io stessa adesso mi sto trovando male Perché magari loro sono efficienti Qualunque problema aiutano Il problema è che i loro prezzi Sono veramente alti per ciò che ti danno Cioè Troppo alti E invece a un prezzo minore Ci sono altri appartamenti Magari se sapete il giapponese Andate in un'agenzia giapponese Sennò sempre c'è la Gaging Point Che io adesso sto usando questa Per trovare un appartamento Che ve li trovo a meno Ma sono appartamenti nuovi Moderni Messi a nuovo Con la televisione Comunque ci sono tante cose Che qua per esempio danno Allo stesso prezzo di questi Che però sono enormi Sono veramente veramente belli Quindi Io vi consiglio di trovarvi Agenzie private su internet O privati che vendono appartamenti Più che rivolgervi a un'agenzia Perché comunque chiedono Tanti 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 soldi E io finora Se ve ne posso consigliare una Andate su Gaging Point Perché ne trovate veramente tanti Vi sceglie pure Verso quale stazione Voi vorreste essere vicini Che a seconda della scuola Avete una stazione diversa La Shibuya Gagaku e Shibuya Quindi state a posto La Kamonkai a Nippori Quindi comunque un'altra fermata Della Jirline C'è Yoko Hama C'è la scuola Yoko Hama C'è Daki Abara Ce ne sono veramente veramente tante L'unica cosa Ecco dovete Concentrare veramente tanto Sul tipo di scuola Che volete fare Perché poi non è che Cambiarla un attimo Quindi se avete intenzione Di cambiare scuola Vi rivolgete alla scuola stessa E loro si occupano Del trasferimento Comunque si Ecco Non volevo parlare un attimo di questo Perché se non era stato chiaro qualcosa Anche per gli appartamenti Poi ci sono Se voi volete andare sull'economico Vi consiglio i dormitori della scuola Tipo la Kamonkai Li offre E sono veramente veramente economici Se non avete problemi A vivere con altre persone Sono i più economici Credo finora Se no ci sono le West House Le Shard House Che io non mi ci trovo Perché veramente Veramente non mi ci trovo Però Magari vivete con Nella stessa casa 20 persone Però voi avete Magari una vostra stanza privata O magari la dividete Con qualcun altro E pagate pochissimo Cioè avete l'area in comune Che è la cucina Il bagno A volte Ed è una Però Appunto Per risparmiare È fantastico Perché comunque Avete chi viene a pulire casa Una volta a settimana Se non sbaglio E non volete vivere da soli Questa magari è la soluzione migliore Solo che ci sono maschi e femmine Insieme a volte Oppure a volte Solo maschi e solo femmine Vi informate Se no Altra cosa ancora Ci sono le famiglie Le famiglie Voi andate a vivere In una famiglia giapponese Che non conoscete Cioè chiariamo Che non sapete chi sono E pagate due soldi Perché comunque Poi avete il pranzo E la cena ve la danno loro La colazione ve la danno loro Però magari avete Il coprifuoco Cioè dovete tornare a un certo orario Non potete portare gente a casa Non potete Magari comprare Certe cose E portatevi a casa Cioè vi mettono tante regole E stare in una famiglia E Diciamo che se state qua Poco un mese Si può fare Ma se state di più Cioè diventa un attimo vincolante Se volete andarvi a mangiare Fuori una pizza Con gli amici Magari volete andare al club E tornare la mattina Cosa che succede Se siete qua Ecco magari in una famiglia Non potete farlo Perché vi mettono Gli orari a cui tornare Quindi io la famiglia Personalmente Non la consiglierei Poi c'è chi c'è andato E si è trovato bene Però per esempio Due amici miei Che stanno qua Hanno fatto la famiglia Dopo esattamente tre giorni Uno ha cambiato Sono andato in una quest'house Un altro in un appartamento privato L'altro ha esistito due settimane Però dovrebbero dargli Una medaglia al valore Perché un era capitato Con una nonna E un cane Il cane stava male Era pure malato Quindi Non era un buon profumo Per casa Che poi io amo i cani Adesso lo comprerò Però capisco pure Che magari vivere Se una persona agli animali Già a noi gli piacciono i su E poi si ritrova una persona anziana E un animale così Che magari gli dà fastidio Non è la soluzione migliore Un altro invece Trova una famiglia con tre bambini Quindi immagino il disagio Comunque Sono scelte che uno fa Anche in base alle esperienze Che vuole fare Se volete vivere con i giapponesi Ecco questa magari È l'ipotesi migliore Ma potete vivere con i giapponesi Anche andando in una share house Ci sono share house Dove ci sono anche i giapponesi Quindi non c'è problema Io invece amo molto La mia privacy Per me è veramente importante Perché cioè Se vuoi ballare Per casa nudo Puoi farlo Quindi cioè Io ho preso l'appartimento privato Perché mi ci trovo meglio Non devo rendere conto A nessuno di cosa faccio Se faccio Se viene gente a casa Se non viene E quindi io personalmente Mi ci trovo meglio Per quanto riguarda il lavoro Ho visto studentesco Potete lavorare Mi pare fino a 28 ore a settimana Quindi solo che Per trovare lavoro part time È indispensabile Sapere almeno Almeno un minimo Di giapponese Quindi ecco Mi era arrivato un messaggio Dove ho dovuto chiuderlo Io adesso vi saluto Che devo andare a Shibuya Che tra poco va dal Boeing Quindi Tra l'altro mi sto aspettando Un giapponese Quindi se ritardo Credo Sono peggio degli svizzeri Stanno lì tipo Loro arrivano in anticipo Ma ho mai ritardo Come i treni Quindi vi saluto E spero che questo piccolo video Vi sia stato utile In qualche modo E ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Ciao 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 ciao